Allora, buon pomeriggio a tutti. La delegazione di Fratelli d'Italia ha incontrato il Presidente incaricato Mario Draghi. È stato un confronto cordiale, franco, spero costruttivo. Abbiamo ribadito al Presidente incaricato che Fratelli d'Italia in ogni caso non voterà la fiducia al suo Governo per una ragione di metodo e per una ragione di merito che indipendono entrambe dalla sua autorevolezza e che non hanno nulla a che fare con un'eventuale pregiudizione ai suoi confronti. La questione di metodo è che noi continuiamo a considerare che l'Italia sia una democrazia come le altre, che non sia una democrazia di serie B, che gli italiani non siano cittadini di serie B, che come tutti i popoli al mondo abbiano il diritto di scegliere da chi farsi rappresentare, perché il principale problema italiano è che serve sì un Governo con una maggioranza omogenea e una visione chiara da mettere in pratica.